E dai però sto perdendo una marea di trofei E però non inizierò a piangere adesso Che abbiamo noi il metodo Linea all'Andrea del futuro Grazie Andrea del passato per avermi dato la linea Adesso iniziamo con questo metodo Iniziamo con il nostro primo tentativo Iniziamo con il nostro tentativo Dai Proviamo Sto computer ti si deve stare zitto Oh no e mi devo grattare le mani Mi devo grattare le mani E no e non mi va la connessione Eh Nemmeno a me va la connessione Lago No 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 ho messo il brawler giusto Infatti E non mi metto nemmeno il brawler giusto No No ma mi si muove da solo Non ci credo Eh vabbè E ovvio che perdiamo con sto schifo Riproviamo Andato Riproviamo Proviamo a mettere un altro brawler stavolta però Io provo a mettere Jesse Ok Silenzio Di nuovo Sempre l'ambulanza abbiamo Mi devo grattare il piede E molti gratti il cervello Io sono troppo distratto a uccidere ste robe Mi sa che non ce la faccio Anche stavolta perderemo Eh non lo so No che è sto lagga No perché mi si ferma da solo sto schifo Sto pesce di cammina Ma penso che lo hanno aggiornato il brewstarts Perché vedete che l'icona del lago non si muove più Non è più animata ora Super bello No perché ho tirato la palla Ma pure questa palla è scema Non va a segnare Io me ne vado Sì? Non ci credo Ok 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 Mi hanno detto che si deve fare un metodo Dai Togli il non disturbare Perché mi hanno detto Che dobbiamo usare pocio e rosa Aspetta Mi sa che si deve usare pocio e rosa Proviamo Aspetta no No la faccio io Non andiamo in amichevole Proviamo una partita vera stavolta Rischiamo il tutto per tutto Proviamo Magari funziona Magari funziona E mi ha detto che dobbiamo usare foot brawl Sì Ok Decisamente Adesso Si dovrebbe Dovrebbe Dovremmo vincere Dodò L'hanno detto eh L'hanno detto solo Non Non era solo Non era una Non è detto che facciamo Non è detto che facciamo Non è detto Ce l'avete detto voi eh Quindi noi ci fidiamo Noi ci fidiamo di voi Ma siete dei P***i Vedi proprio quando dobbiamo fare un video Perdiamo Non è detto che facciamo Diiscono senso Aspetta no 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 Però aspetta Noo Bippa Non è bippato Non è una parolaccia attento che quel franco ti vuole che l'ambulanza questo non so ci sta dando magia ti ma ci sto dando magia quando pare si mu so che il metodo funziona forse ma dobbiamo essere certi che funziona sto metodo vabbè dipende se avete pocio rosa bambino ma bobo c'è rosa sono facili da trovare ma più o meno sono abbastanza comuni devo trovare le medicine non ti posso curare ecco cioè un bacino per il covipi covipi scriviamo tutto non scriviamo niente perché non ci credo 76 di vita potremmo usare questo metodo davvero no se un certo franco magari non mi kill non ci credo non ci credo è impossibile allora è vero che ne mettono funziona perché vedi che già stiamo vincendo in realtà non tanto che la palata però ha avviso era successo un miracolo un mira hq mira mira a se è arrivato il pacco vediamo si vedate che sicuramente adesso mi disconnette qui arrivo ci sono non ci credo non ci voglio credere non ci voglio credere proprio adesso mi si doveva ricaricare beh però dai però dai no non è andata male la partita abbiamo fatto un pareggio dai questa parte la paghiamo poro ok adesso adesso vi facciamo vedere come si vince una partita e avevi la soglia del pasto non ci credo non ci voglio credere ehi 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 qua la partita è facile sì abbastanza anche perché quel bombardino è in attivo appunto no vai che scusa posso fare il gol ti prego ti prego non l'ho mai fatto io quindi schifoso ehi che mi schifoso ti ho detto mo questa parte te la taglio ma pesantamente avete visto funziona un'altra volta basta mo dura 20 minuti sto io se aspettando il caso enorme momento opening vediamo che bros star se c'è la man di buona con ieri per 3 scopo rete 3 schifo amore dice a se volete niente dai però allora il metodo funziona sì ho sbagliato a evitare quindi volevamo dire tutti e due noi ci vediamo ad un prossimo tutorial o video ciao